Autogol di Renzi con il No Imu Day o il No Tax Day che ci sarà domani, perché guarda caso domani è anche il giorno in cui tutti i cittadini, tutti i contribuenti italiani dovranno pagare 24 tasse, 24 tasse inaccettabili, 24 tasse rispetto alle quali è aumentata la pressione fiscale, per cui c'è ben poco da festeggiare. Non so quale genio della comunicazione ha suggerito a Renzi questa giornata, perché sarà una giornata contro Renzi, contro le tasse, contro il governo e sarà un boomerang nei confronti di questo Presidente del Consiglio che gioca a fare lo statista, ma in realtà è semplicemente un imbroglione di provincia. Noi abbiamo dimostrato che la pressione fiscale è aumentata, che con una mano lui toglie e con l'altra mette e per di più aumentando la pressione fiscale. Abbiamo fatto l'elenco, domani faremo un'ulteriore conferenza stampa in cui spiegheremo tassa per tassa, imbroglio per imbroglio. Ci sarà da divertirci su questo, basta con questa comunicazione drogata, basta con questa comunicazione avvelenata, il tutto per mettere le mani sul potere, un potere che ormai sta sfuggendo a Renzi e ai suoi cari. Basta vedere quello che succederà con i ballottaggi, basta vedere quello che sta già succedendo con il referendum costituzionale.